il reparto scout e da condividere anche con Maurizio Sari che penso che abbia esaltato il nostro lavoro insieme al nostro grande pubblico. Benissimo, allora... Non è stato detto qualcuno in generale, non è stato un gioco nel tipo di avararog, sono già nel mirino di giunto. Il lavoro è a 360 gradi tutti i giorni e poi dopo dobbiamo farsi trovare pronti al momento giusto. E allora per premiare, abbiamo voluto sicuramente dare spazio ad una persona che è stato un una persona che di grandi campioni ne ha scoperti tanti. Vi posso dire qualche nome come Diego Armando Maradona oppure Ronaldo? Gianni Di Marzio! Ma anche me, Sibra Imoni, che mi ha tirato di candidati di paesi che ha scoperti di io. Buonasera Gianni Di Marzio, ciao Gianni! Quindi scopriva e non sempre le società poi gli hanno dato ragione, nel senso che qualche volta, ecco qui, il premio di Di Marzio a Cristiano Di Marzio. C'è però anche la motivazione di questo premio perché si è distinto negli anni per aver scoperto e lanciato giovani calciatori contribuendo a costruire per la società sportiva Calcio Napoli una squadra che fa del gioco ma anche dello spettacolo e della tecnica, quelle che sono le sue virtù grazie anche ai talenti che sono stati acquistati negli ultimi due anni e proprio quindi nel corso del suo lavoro. Buonasera a tutti, sono molto e veramente felice di premiare Cristiano perché è uno dei vincenti del progetto del Presidente di Napoli.